Ciao a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Valle. Oggi vi voglio fare vedere come realizzare questa borsa. Purtroppo come al solito non si vede tutta intera ed è una borsa realizzata con questo tipo di filato che sembra pelliccia. Anche questo trovate sul sito modamerceria.it Anzi tutto quello che vedete lo trovate proprio su modamerceria.it tranne questa chiusura. Questa l'avevo io ma vi metterò il link di altre chiusure. Detto questo vi voglio spiegare un po' come è stata strutturata. Allora come vedete ho fatto la borsa interamente su rete. Tranne i laterali che li ho fatti senza. Qua ho fatto il fondo sempre con il cordino che poi vi metto il link ed è il cordino di una borsa che avevo fatto precedente. Io ho messo i piedini e ho fatto anche questa chiusura con il cordino. Ho fatto 10 maglie in più ho fatto dopo tutto la circonferenza con questo filato tipo pelliccia. Nei manici li ho messi quelli di Dior che ho messo anche nell'altra borsa e come vedete ho fatto un tipo di borsa invernale perché questa qui essendo tutta con questa pelliccia sembra che è invernale. Dentro l'ho strutturata in questa maniera. Vedete? Ho messo una cerniera qua e un altro taschino qua. Ho inserito la fodera nel solito modo perché a me piace che la fodera stia ferma quindi ho foderato i pezzi quando erano ancora tutte smontate. E questa è la borsa. Vi dirò mi è piaciuto molto farla perché è una borsa velocissima da fare perché ci va poco tempo e niente è facilissima. Come ho detto si struttura tutto su rete quindi è facile. Io ho impiegato due gomitoli e pensavo di non farceli invece ci ho messo due gomitoli per fare una borsa. Vi metterò comunque tutti i link dei materiali che ho usato nell'info box e che dire se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere sempre informati dei nuovi video che farò. Con questo è tutto. Io vi lascio al video tutorial. Oggi vi faccio il progetto della borsa che avete visto in anteprima e ho usato questo filato qua sempre preso su www.modamerceria.it Vedete? Questo ed è sono 100 grammi per 65 metri ed è una microfibra è al 100% microfibra molto morbida si lavora molto bene e devo dire che il progetto mi è piaciuto molto. Allora, premetto io gli ho messo la rete per... l'ho usato con la rete perché questo filato qua lavorando con la maglia è un po' più complicato complicato nel senso che si fa fatica a vedere le maglie dove dobbiamo andare a prendere per esempio io mi sono anche portata avanti ho già fatto il laterale e il laterale ho deciso di lasciarlo così morbido senza rete però metterò la fodera mentre la parte io ho fatto solo una parte poi vi faccio vedere fare l'altra che è questa l'ho fatta tutta nella rete cioè ho passato il filato nella rete per farla stare più rigida logicamente dopo andrò a mettere anche la fodera quindi per fare questo progetto abbiamo bisogno di due pezzi di rete io adesso ho questa qui che è la mia però sul sito di Roberto poi vi metterò comunque il link c'è la la rete io l'avevo presa ma l'ho usata per altre cose quindi è rimasto questa e c'è la rete che è quella di di larghezza media poi comunque vi metto il link poi abbiamo bisogno di un fondo 29 per 8 io il fondo l'ho fatto in questa maniera qua e ho usato sempre il cotone che avevo preso per fare una borsa sempre dal sito di Roberto vi metterò anche il link di questo cordoncino e ho deciso di farla in cordone poi metterò anche i due piedini poi io ho fatto questa è un un fondo per fare questo fondo ho fatto 10 catenelle ho fatto circa 43 giri che deve venire di diciamo di lunghessa sui 30 cioè 30 e mezzo poi ho fatto poi ho fatto un giro 43 giri senza contare il giro perimetrale io ho fatto un giro perimetrale e poi ne ho fatto un altro appunto bassissimo in modo che viene così vedete ed è un totale come ho detto di 30 e mezzo circa di larghezza 8 cm poi il laterale dovrebbe venire sempre largo 8 cm perché dopo dovremo andarlo a cucire in questo modo bene ora io vi faccio vedere questo non me lo sto a far vedere perché è semplicissimo io ho fatto diciamo tutto il fondo e poi con il perimetrale prendevo il perimetrale e prendevo anche la rete se volete ve la faccio vedere ma è semplicissimo ora vi faccio vedere invece come ho iniziato a fare la borsa allora io ho usato questo per fare la borsa che è un 4 e questo l'ho usato che è un 6 per fare il laterale quando fate il laterale state attenti perché si fa fatica a vedere dove è la maglia sotto quindi cercate di prenderle in modo che quando tirate non si non si rompa insomma bisogna stare un po' più attenti per quello ma è molto facile e diciamo che si fa prestissimo farlo ora vi faccio vedere come ho iniziato allora io inizio dall'alto e preferisco andare in quadrato cioè arrivo qui poi faccio l'altra fila poi vi faccio vedere però nulla toglie se voi volete fare andate su giù poi su poi giù poi su insomma andate sempre in fila io ho preferito fare in quadrato mi prendo ah vi dico subito per fare io per fare questo ho messo ho fatto un un gomitolo e con lo stesso gomitolo sono riuscita a fare anche i due laterali quindi ci vorrà circa due gomitoli ora vi faccio vedere come inizio prendo vado sotto e mi faccio il mio capiettino poi prendo la maglia lunga e faccio ogni tre uno due nella terza nella terza inserisco l'uncinetto e tiro fuori e la vado a passare dalla catenella che ho fatto vedete guardate vedete questa è una catenella cioè in pratica dobbiamo andare a prendere non dobbiamo fare altro che andare a prendere la la lana sotto quando passiamo nella rete allora facciamo vedete uno due tre entro prendo sul filo questo è il filo che ho preso lo passo dall'altra parte dove avevo preso dove avevo fatto l'altra catenella mi raccomando se vedete che una maglia è girata in questo modo e si vede il sotto dobbiamo sempre cercare di girare e non far vedere quindi io vado facciamo uno due e tre entro aggancio quella sotto vedete qui e lo faccio passare qua e questo è tutto il lavoro che andiamo a fare per tutta la borsa è semplicissimo l'unica accortezza che dovete cercare di fare vedete sempre sempre nelle tre per fare tutto uguale ok di cercare di non sbagliare anche se uno vi capita di fare quattro non è niente perché poi dopo viene tutta coperta dal pelo ma non deve vedersi questa la parte sotto quindi dobbiamo sempre magari si toglie l'uncinetto e si cerca di mettere bene in modo da non fare vedere il sotto quindi uno due tre aggancio e faccio passare sopra vedete vedete io adesso continuo vi faccio vedere fino alla vi faccio vedere a fare tutto il giro e poi vi faccio vedere come rincomincio l'altro giro quando arrivate all'angolo se ce ne è rimaste due o tre o quattro andate nell'angolo vedete prendete su la nostra lana facciamo così giriamo e contiamo uno due tre e prendiamo e facciamo l'angolo in questa maniera vedete poi non si nota tanto perché come ho detto il pelo questo pelino qui nasconde molto quindi non vi preoccupate se fate anche degli errori non si vede quindi io adesso continuo come ho detto per tutto il quadrato poi vi faccio vedere alla fine vedete ho già fatto tutto il perimetro sono alla fine del primo giro quindi cosa faccio vado a prendermi nella qui vedete vado prendere su e chiudo ora dobbiamo fare uno si uno no quindi se questa l'ho fatto qui lascio questo e vado qua e prendo su faccio conto tre uno due tre e vado a prendere vedete poi uno due tre prendo su ho dimenticato di dirvi non tirate molto quando andate a prendere il filo perché se voi tirate molto e stringete la rete fa tutte le onde mentre invece dovete lasciare molto morbido vedete io come faccio lascio molto morbido il il punto vedete in pratica lo lascio così vedete come è alto e vado a prendere uno due tre e prendo e porto e tiro su lascio morbido uno due tre e prendo mi raccomando cercate di di stare ben attenti a non lasciare dei buchi o non andare storto nella rete e molto molto lento ok e ci vediamo alla fine bene ora vi faccio vedere come attacco la laterale io ho lasciato un po' di filo lungo giro la mia il mio fondo all'al dritto e questo metto sotto in questo modo e vado a prendere il primo filo i primi la prima catenella vedete qua mi raccomando sempre vedete che abbiamo fatto come ho detto abbiamo fatto il giro di punto basso noi andiamo a prendere non la catenella di fronte ma quella dietro vedete così vedete non questa ma quella dietro poi metto nella nella catenella della maglia della maglia prendo la maglia e porto porto vedete scusate sotto e continuo così facendo dei punti bassissimi quindi prendo la maglia vedete qua questa e non questa davanti ma questa dietro inserisco nell'altra maglia prendo e faccio un punto bassissimo vado avanti il bello di questa di questa lana è che se fate degli errori si nasconde benissimo quindi ripartiamo prendiamo le due maglie sotto inserisco nella maglia e tiro fuori il filo vedete ok vedete vedete che in questo modo viene non si vede il sotto e viene tutto bello vedete quindi tiro fuori il mio filo dopo lo andrò a fermare e questo sarà il sotto con i laterali io poi andrò a mettere la fodera che ho già tagliato e poi vi faccio vedere come inserire la fodera e come poi andiamo a cucire i nostri davanti e dietro ok ci vediamo dopo bene io vi voglio far vedere mi sono già portata avanti vedete io qui ho messo la mia fodera io ho fatto anche se vedete questa che è la chiusura perché perché mi è venuta l'idea di fare così e vi ricordo che per fare questo che l'ho fatto sempre nella stessa nella stessa cordoncino che è questo vedete e ho fatto 10 maglie per 35 giri e poi ho fatto tutto il giro di contorno con lo stesso filato questo morbidoso questa pelliccia poi l'ho attaccata e infine ho messo la fodera io ho messo questa chiusura ma poi è una chiusura che avevo io ma vi farò vedere dove sono le chiusure nel sito di Roberto vi voglio fare vedere quest'altro pezzo che ho messo solo il pezzo di chiusura ma in questo ho voluto fare anche il perimetro a punto basso e vi faccio vedere come si inizia perché ho visto che viene molto meglio e poi mi servirà quando dovrò andare ad attaccare i miei laterali quindi facciamo scusate un giro non di punto basso di punto bassissimo il punto basso l'ho fatto solo attorno questo è punto basso e non bassissimo mentre qui andiamo a fare il punto bassissimo quindi io inizio da una parte che voglio metto nell'asola prendo sul filo e inizio quindi ho l'asola vado nell'altra asola è un po' più difficile vedere con questa con questo con questa pelliccia però si fa vedete prendo aggancio il filo sotto vedete aggancio il filo sotto e lo porto dall'altra parte e faccio il primo punto bassissimo poi vado nell'altro aiutatevi con l'altra mano se non trovate aggancio il filo porto su e faccio passare dall'asola vedete viene un po' più in rialzo rifaccio prendo vedete cerco con con la mano perché come ho detto è un po' difficile da vedere prendo su vedete il filo sotto e faccio passare dall'asola e faccio così tutto il contorno bene io ho messo su già i due anelli per mettere su poi questo manico io preferisco metterlo su prima di mettere su tutto di assemblare la borsa ora vi faccio vedere come inizio io poi voi potete iniziare anche dai lati così io no io inizio dal fondo faccio prima il fondo e vado a cucirlo con un punto bassissimo come ho fatto prima prendo il mio filo lo aggancio poi guardate vado vedete abbiamo fatto il punto in quello con il punto bassissimo dobbiamo andare in quello sotto e prendiamo le due asoline prendo il filo porto avanti e passo sopra anche a questo rifaccio prendo il filo qui dove andatevi a prendere ad agganciare dove vi pare tanto questo è un filato che non si vede comunque gli errori però l'importante è che prendiate bene poi vado nell'altro tengo questo in questo modo vedete qui prendo i due sotto i primi vedete dalla parte poi aggancio e tiro fuori e vado avanti così per tutto il perimetro del fondo poi vi faccio vedere come attaccare i lati come vedete io ho attaccato il fondo vedete viene così e così certo dentro si vede un po' il pelino quindi se voi a voi piace che non si veda questo dovete fare dovete assembrare la borsa e la fodera farla per ultimo io preferisco farla così perché per me sta meglio poi dentro la borsa cade bene e non fa difetto e anche se si vede questo non ha importanza perché tanto comunque dentro e non dà fastidio vedete io adesso ho fatto il mio fondo ora lascio il filo acciaccato da questa parte e incomincio a fare il laterale e andrò a fare il laterale sempre tenendo io mi fermo con una mollettina il pezzo in alto per farlo sì che diventa pari e poi sempre con il punto bassissimo vado a prendere anche il il laterale in questo modo vedete così tengo vedete qui e cerco di infilarmi in una maglia e nell'altra nel laterale come ho detto questo il bello di questa borsa è che non si vede gli errori diciamo se saltiamo un punto l'importante è che venga fissato bene ok quindi io adesso farò tutto il laterale sempre a punto bassissimo bene io ho finito la mia borsa purtroppo non ci sta tutta nella videocamera vedete io ho pensato di fare così io ho messo anche questa chiusura però questa era una delle mie chiusure ma vi metto una chiusura che è sul sito di Roberto io l'avevo avevo questa e momentalmente ci ho messo questa vedete come è venuta io ho cercato ho messo i manici e li ho messi nella stessa maniera che ho messo nell'altra se vi ricordate il video l'unica cosa è che qui dietro non gli ho messo ancora niente e penso di mettere un po' di colla e gli metto il cordino così proprio per non far vedere l'attaccatura per il resto vedete come è venuta vedete ho messo i piedini e ho fatto il fondo così e la chiusura in questa maniera poi ho cucito con un uncinetto con il punto bassissimo voi potete anche cucirlo con l'ago a seconda come vi trovate meglio voi l'ultimo giro che ho fatto qua ho fatto un giro di maglia bassa e niente questo è la borsa poi metto l'anteprima a me è piaciuto tantissimo fare questa borsa vi ricordo che questa è una borsa facilissima perché è tutta strutturata su rete molto veloce perché poi si presta anche il filato ed è un filato morbidissimo vi ho fatto vedere il gomito alla fine bene io ho detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di vostro gradimento se è qualcosa che non capite mandatemi un messaggio scrivetemi in info box io vi risponderò il prima possibile anche se non vi ho fatto vedere proprio tutto tutto però comunque le cose principali ve le ho fatte vedere mi raccomando andate su www.modamerceria.it e troverete tutti i materiali che ho usato e comunque vi metto anche nell'info box con questo è tutto io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti